Ciao sono Giuseppe, io sono Alessandro e oggi giocheremo a cazzo con questi cuscini dalle nostre posizioni Io mi sono già spaccato la coscia una volta, Giuseppe si è spaccato il dito Maria, Antonietta, Cristian, tutto il gruppo, se non vedete tutto il mio balcone Mettete il pollicione in su, se lo vedete mettete il pollicione in su, se lo iterate mettete il pollicione in giù Ragazzi vi ricordiamo che noi siamo molto acab, idem Giuseppe, più o meno Guardate che faccia di cazzo Comunque non vedete tutto il balcone Con questo pallone di cuoio, notate com'è brutto, invece tengo quello degli europei, solo che se lo portavo e lo perdevo, ammazzavo Giuseppe Ma io devo giocare l'alto Andiamo Comunque non vedete tutto il balcone, Giuseppe E questi saranno i cuscini sporchi Sporchi, ecco perché iniziamo Ok, possiamo iniziare e vamos Vamos a la playa Oh 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 Eh, giunato Ah, io giuseppe inizio a spaccare il mio almeno un piccino occhio Tra l'altro Non vedo un cazzo a me Eh sì Ah oh 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 È bollevi a me vedo a te io faccio più biselitazione cambio campo io faccio più biselitazione allora cambio campo perché io non mi vedo Gisela ma io faccio più biselitazione io faccio più biselitazione vai asinello vai vai coglione vai forse non si vede un gol no dio ci si aveva messo il ginocchio in testa sta prendendo l'iphone mia ragazzi ecco cosa sta succedendo con Giuseppe aspetta Giuseppe mi ha messo ecco cosa sta succedendo io sto sopra Giuseppe come voi notate e ora va bene e acaba e oggi aspettate che mi metto la telecamera Giuseppe no 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 rete rete una giusta ok non fate capire non per terra no no gol attendete giuseppe capitolo giochio è del ente sendo favore Quanto sei coglioni da 1 a 10 per fare questo gol? 10 Curto a bravo Grande parato a dittima Curto a Adio raga Raga è forte Ti ho fatto male Veramente raga Adio Adio sempre Sto andando a fare Vedete che a me fa male il ginocchio Ha fatto male Ha quanto sei coglioni per fare quello Ora guardate io Guardatemi mentre Maltratto Giuseppe Aspettate fatemi prendere un attimo Tu rimane qua mentre prendo un cuscino Zitto Questo è il volto di Giuseppe Questo è il volto del pallone E questo è il volto mio Prendi un cuscino e metti solo sotto le gambe Ti fai guarda? No Cambio campo Ragazzi ora tocca a me andare in questo campo Perché io faccio più visualizzazioni sicuramente Se hai sempre piaci E questo sarà difficile da evitare Ma vabbè Giuseppe Pronto Giuseppe Giuseppe che io ti farò un numero Non metti lo fatto Allora Ora vedete il 10 e le 7 all'azione Brasil Eh da questo balco Rete Rete ragazzi dovete vedere che gollo che ho fatto Allora Cambio campo perché è stato buono Guardate la camminata nostra molto a cab Allora Ciao Ciao